Hi everybody! Benvenuti a questa seconda lezione di questo corso d'inglese base. Anche questa lezione, come quella precedente, è suddivisa in tre parti, ognuna delle quali prevede delle esercitazioni pratiche. La prima parte è dedicata al lessico, per imparare nuove parole, nello specifico le attività del tempo libero e i giorni della settimana. La seconda è dedicata alla grammatica, vedremo il tempo verbale presente, il present simple, come si forma e quando si usa. Inoltre vedremo gli avverbi di frequenza, adverbs of frequency. Nella terza ed ultima parte, svolgeremo le attività di lettura e comprensione, seguita da delle domande a risposta chiusa. La lettura e comprensione ci serviranno per verificare se abbiamo assimilato bene gli argomenti trattati e a migliorare le nostre abilità di listening and speaking. Cominciamo con il vocabolario. In questa slide dovremmo abbinare le parole che vedete qui sopra in rosso alle immagini. Ma prima leggiamole insieme. Ascoltate bene la pronuncia e ripetete insieme a me. Quale parola abbiniamo all'immagine? L'immagine numero uno. Quale attività nel tempo libero? Abbiniamo all'immagine numero uno. Go dancing. Exactly. Number two. Quindi go dancing. Ballare. Andare a ballare. Number two. Play tennis. Giocare a tennis. Very good. Number three. Cook. Cucinare. Number four. Play video games. Giocare ai videogiochi. Molto bene. Very good. Number five. Listen to music. Soltare la musica. Soltare la musica. Number six. Play the guitar. Suonare la chitarra. Number seven. Go shopping. Andare a fare shopping. Andare a fare compre. Number eight. Play golf. Giocare a golf. E infine number nine. Read a book. Leggere un libro. Adesso passiamo ai giorni della settimana. Leggiamo l'insieme e ripetete l'insieme a me. Sunday. Domenica. Monday. Lunedì. Tuesday. Martedì. Wednesday. Mercoledì. Thursday. Giovedì. Friday. Venerdì. And Saturday. Sabato. Avete notato che abbiamo cominciato dalla domenica. Perché in inglese i giorni della settimana si cominciano a contare dalla domenica e non dal lunedì. Inoltre dovete sapere che si scrivono sempre in maiuscolo. E infine soffermiamoci un po' sulla pronuncia. Sunday. Si pronuncia Sunday con la A e non con la U. Tuesday and Thursday, che molto spesso vengono un po' confusi, hanno una pronuncia diversa. Il primo martedì è Tuesday. Il secondo giovedì è Thursday. È diverso. E infine Wednesday, pronunciatolo senza la D, non si sente la D, quindi è un Wednesday. Andiamo avanti. Esercitiamoci con i giorni della settimana. Sulla sinistra troviamo i giorni della settimana messi in disordine. Il nostro compito è quello di metterli in ordine sulla destra. Con quale giorno della settimana cominciamo? Vi ricordate? Abbiamo detto che la settimana comincia con la domenica. E quindi come si dice domenica in inglese? Sunday. Poi abbiamo lunedì. Quale di queste parole corrisponde al lunedì? Exactly. Monday. Poi abbiamo martedì. Qual è martedì? Tuesday. Ottimo lavoro. Poi abbiamo mercoledì. Quale di queste parole in rosso corrisponde a mercoledì? Wednesday. Poi abbiamo giovedì. Dov'è giovedì? Thursday. Giovedì. Poi abbiamo venerdì. Quale di queste parole è venerdì? Friday. E infine sabato. Saturday. Ottimo lavoro. Leggiamoli e traduciamoli insieme di nuovo. Sunday. Domenica. Monday. Lunedì. Tuesday. Tuesday. Martedì. Wednesday. Mercoledì. Thursday. Giovedì. Friday. Venerdì. Saturday. Sabato. Adesso ci eserciteremo con la scrittura delle parole fatte fino a ora, i giorni della settimana e le attività del tempo libero. Io vi consiglio di mettere pausa al video, svolgere l'esercizio e poi lo correggiamo insieme. Ci vuole un po' di tempo. Perché come vedete qui troveremo le parole messe con le lettere in disordine. Quindi il nostro compito è quello di riordinare le lettere per formare la parola esatta. Facciamo con la parola numero uno. È un'attività o un giorno della settimana? È un'attività. Play the guitar. Number two. È un'attività o un giorno della settimana? Sunday. Domenica. Number three. Thursday. Number four. Listen to music. Ascoltare la musica. Number five. Monday. Lunedì. Number six. Cook. Cucinare. Number seven. Go dancing. Andare a ballare. Number eight. Che cos'è? Cosa avete scritto voi? Friday. Venerdì. Number nine. Play tennis. Giocare a tennis. Number ten. Questo è facile. Wednesday. Wednesday. Number eleven. Wednesday. Mercoledì. Number eleven. Read a book. Leggere un libro. Read a book. Number twelve. Tuesday. Martedì. Number thirteen. E dici? Go shopping. Andare a fare compere. Number fourteen. Play video games. Giocare videogiochi. Number fifteen. Saturday. Sabato. E infine number sixteen. Play golf. Play golf. Giocare a golf. Benissimo. Per rafforzare quanto abbiamo fatto. Svolgiamo questo esercizio. E vi consiglio sempre di mettere pause e poi lo correggiamo insieme. Così avete più tempo per svolgere l'esercizio pensando e riflettendo con il vostro tempo. Sulla destra vedete un piano della settimana e dei personaggi che svolgono delle attività. Il nostro compito è quello di rispondere a delle domande sulla base di questo weekly planner, programma settimanale. Bene. Cominciamo con la domanda numero uno che è già svolta per darvi l'esempio. Who plays the guitar on Monday? Chi suona la chitarra il lunedì? E la risposta è Josie plays the guitar on Monday. Josie suona la chitarra il lunedì. Adesso tocca a voi. Number two. Who reads a book on Tuesday? Chi legge un libro il martedì? Sarah reads a book on Tuesday. Number three. Who plays video games on Wednesday? Chi gioca ai videogiochi il mercoledì? John plays video games on Wednesday. Number four. Who listens to music on Thursday? Chi ascolta la musica il giovedì? Jess listens to music on Thursday. Number five. Who plays tennis on Friday? Chi gioca a tennis il venerdì? Peter plays tennis on Friday. Number six. Who goes shopping on Saturday? Chi fa shopping il sabato? Kelly goes shopping on Saturday. Fine. Finally. Chi va a ballare la domenica? Bob goes dancing on Sunday. Very good. Good job. State andando benissimo. Bene. Abbiamo concluso la prima parte dedicata al vocabulary. Adesso passiamo alla parte grammaticale, la seconda parte. Vediamo il tempo presente. Present simple. Vediamo quando si usa. Si usa per parlare di abitudini o azioni ripetute. Si usa per parlare di situazioni permanenti, verità assolute o scientifiche. I live in Italy. Situazioni permanenti. Io abito in Italia. The sky is blue. Il cielo è blu, azzurro. Verità assolute. Water boils at a hundred degrees. Verità scientifiche. L'acqua bolle a cento gradi. Ma si usa anche per parlare di stati d'animo, emozioni o pensieri. I'm happy. Sono contento. I think you're kind. Io penso che tu sia gentile. Si usa anche per dare indicazioni o istruzioni. Turn left and go straight. Gira a destra e vai dritto. Oppure, open your book to page 60. Apri il libro a pagina 60. Infine, il present simple si usa per parlare di azioni o eventi programmati. Quindi, the train leaves at ten. Il treno parte alle dieci. Oppure, the library opens at five. La biblioteca apre alle cinque. Come vedete, il present simple è molto simile al presente indicativo, con qualche differenza, che vedremo insieme nelle prossime lezioni. Andiamo avanti. Abbiamo visto quando si usa il present simple, adesso coniughiamolo insieme. Cominciamo dalla forma affermativa, che si compone di soggetto e forma base del verbo. Vediamo. I play, io gioco. You play, tu giochi. He plays, lui gioca. She plays, lei gioca. It plays, esso gioca. We play, noi giochiamo. You play, voi giocate. They play, essi giocano. Bene, vediamo che la parte evidenziata in rosso, ovvero la terza persona singolare, è l'unica che cambia. E dobbiamo aggiungere la S alla fine. Vediamo invece la forma negativa. Forma negativa si compone di soggetto, più ausiliare, più not, la particella che introduce la negazione, e la forma base del verbo. Quindi, I do not play, io non gioco. You do not play, tu non giochi. He does not play, egli non gioca. She does not play, lei non gioca. It does not play, esso non gioca. We do not play, noi non giochiamo. You do not play, voi non giocate. They do not play. Come vedete, anche qui cambia soltanto la terza persona singolare. Ma non si coniuga, non si aggiunge la S al verbo play, perché coniughiamo già l'ausiliare, che diventa does, anziché do. La forma negativa contratta è quella che utilizziamo più nella forma parlata. Quindi, nella forma scritta troveremo sempre, quasi sempre, la forma estesa. Nella forma parlata utilizziamo la forma contratta. Quindi, I don't play, you don't play, he doesn't play, she doesn't play, it doesn't play. We don't play, you don't play, they don't play. Vediamo la forma interrogativa. In questo caso, invertiamo l'ausiliare do con il soggetto. Quindi, ausiliare plus subject plus base form verb. Quindi, l'ausiliare più il soggetto più la forma base del verbo. Do I play? Gioco io. Do you play? Tu giochi. Does he play? Lui gioca. Does she play? Lei gioca. Does it play? Esso gioca. Do we play? Noi giochiamo. Do you play? Voi giocate. Do they play? Essi giocano. E infine, vediamo la forma interrogativa negativa. Anche qui si inverte l'ausiliare con il soggetto. Ma prima, mettiamo anche la particella che introduce la negazione. Quindi, do plus not plus subject plus base form. Quindi, ausiliare più not più il soggetto più la forma base del verbo. Don't I play? Non gioco io. Don't you play? Non giochi tu. Doesn't he play? Non gioca lui. Doesn't she play? Non gioca lei. Doesn't it play? Non gioca esso. Don't we play? Non giochiamo noi. Don't you play? Non giocate voi. Don't they play? Non giocano essi. Come potete notare, la coniugazione del verbo in inglese è molto più semplice che in italiano. La cosa alla quale dobbiamo prestare molta attenzione è la terza persona singolare, che può cambiare in base alla desinenza del verbo. La regola generale, che vale per la maggior parte dei verbi, è che bisogna aggiungere la S alla fine della parola. Tuttavia, ci sono delle eccezioni, che seguono alcune regole. Vediamole insieme. Come abbiamo detto, per la maggior parte dei verbi, per la terza persona singolare, basta aggiungere la S. Facciamo qualche esempio. Walk, camminare, diventa walks. Stand, stare all'impiedi, diventa stands. Mentre, i verbi che terminano in y, preceduti da una consonante, cambiano la y in i e si aggiunge es. Facciamo qualche esempio. Cry, piangere, diventa cries. Fry, friggere, diventa fries. Invece, per i verbi che terminano in y, ma sono preceduti da una vocale, si aggiunge semplicemente la S. Come play, giocare, plays. Enjoy, divertirsi, diventa enjoys. E ancora, i verbi che terminano in s, z, c, h, s, h, o, x, basta aggiungere es alla terza persona singolare. Ma ci sono delle eccezioni. Have, go and do, quindi il verbo avere, il verbo andare e il verbo fare, sono delle eccezioni. Have diventa has alla terza persona singolare. Go diventa goes alla terza persona singolare. E infine do, fare, diventa does. Attenzione con do, che è anche ausiliare, quindi vi servirà molto. Potrà sembrare tutto un pochino complicato, ma vi assicuro che con la pratica assimilerete queste regole in maniera naturale. Basta esercitarsi. Bene, e cominciamo subito ad esercitarci. In questo esercizio dobbiamo coniugare correttamente il verbo che troviamo tra parentesi. Mi raccomando, mettete in pausa il video, svolgete l'esercizio e poi correggetelo insieme a me. Vediamo la numero uno. Quindi Andy lavora tutti i giorni, dalle sei del mattino alle cinque del pomeriggio. Good job. Number two. Cry diventa cries and watch diventa watches. Quindi she always cries when she watches a sad film. Lei piange sempre quando guarda un film triste. Very good. Number three. Stay up. Stare alzati diventa stay up perché è prima persona singolare. Quindi I usually stay up late to watch my favorite TV program. Io di solito rimango alzata tardi per guardare il mio programma televisivo preferito. Number four. Take diventa take. Rimane take. Ma poi lo dico, rimane. Se è naturale è così. Non ci faccio. Number four. Take. Rimane take. We take the train to go to work. Noi prendiamo il treno per andare a lavorare. And number five. Play. Do and please. Esatto. Quindi prima del soggetto mettiamo l'ausiliare. Do you play the guitar? Suoni la chitarra? Number six. Allow. Consentire, permettere. Qui dobbiamo coniugare il verbo nella sua forma negativa. Quindi, non consento. I don't allow my son to play videogames. Io non consento a mio figlio di giocare videogiochi. Enjoy. Divertirsi, piacere. Provare piacere a fare una cosa. Significa enjoy. Anche qui dobbiamo utilizzarlo nella sua forma negativa. Doesn't enjoy. Doesn't enjoy. E la risposta che avete dato voi? Se sì, è corretta. Quindi, My husband doesn't enjoy going dancing. Al mio marito non piace andare a ballare. Number eight. Close diventa The library closes at seven p.m. La biblioteca chiude alle sette del pomeriggio. Com'è andato questo esercizio? Sono sicura che sia andato bene. Continuiamo ad esercitarci. In questo esercizio dobbiamo trasformare le frasi nella loro forma negativa e interrogativa. Il primo è un esempio. Quindi, I go to work every morning. Io vado a lavoro tutte le mattine. Diventa, nella sua forma negativa, I don't go to work every morning. Io non vado a lavorare tutte le mattine. La sua forma interrogativa diventa Do I go to work every morning? Vado a lavorare tutte le mattine? Continuate voi adesso. Number two. My daughter speaks French. Mia figlia parla il francese. La sua forma negativa diventa My daughter doesn't speak French. Mia figlia non parla il francese. Nella sua forma interrogativa Does my daughter speak French? Mia figlia parla il francese? Number three. We love going to the sea. Noi amiamo andare al mare. Nella sua forma negativa diventa We don't love going to the sea. Noi non amiamo andare al mare. Nella sua forma interrogativa Do we love going to the sea? Amiamo noi andare al mare? Infine, Number four. He enjoys playing the piano. Lui ama, a lui piace, suonare il piano. La sua forma negativa diventa He doesn't enjoy playing piano. Lui non apprezza, no, a lui non piace suonare il piano. Oppure, nella sua forma interrogativa, Does he enjoy playing the piano? A lui piace suonare il piano? Con questo esercizio volevo focalizzare l'attenzione sul fatto che nella forma negativa e nella forma interrogativa dovete lavorare sull'ausiliare e coniugare l'ausiliare perché, come potete appunto osservare, come abbiamo già detto, il verbo rimane invariato. Quindi, work rimane work. Speak rimane speak. Love rimane love. Enjoy, enjoy. Quindi il verbo non si tocca perché coniughiamo l'ausiliare. Attenzione, quindi. Do per tutte le persone, does per la terza persona singolare. Adesso vediamo l'altro argomento di grammatica, gli avverbi di frequenza. Si chiamano così perché si usano per indicare con quale frequenza si svolge un'azione. In questo schema, vedete, a due apici delle frecce, gli avverbi always, sempre e never, mai. Vediamo gli altri dal più frequente al meno frequente. Quindi abbiamo detto always, sempre, usually, di solito, frequently, frequentemente, often, spesso, sometimes, qualche volta, occasionally, occasionalmente, rarely, raramente, hardly ever, quasi mai, e infine mai. In inglese, l'avverbio di frequenza occupa una posizione ben precisa nella frase, ovvero, tra il soggetto e il verbo. Quindi, I always eat pizza on Saturdays. Io mangio sempre la pizza il sabato. Vuol dire Saturdays, tutti i sabati, di solito, il sabato. Anche nella sua forma interrogativa, l'importante è sempre metterlo tra il soggetto e il verbo. Quindi, Do you often eat pizza on Saturdays? Mangi spesso la pizza il sabato? Bene, andiamo avanti. Vediamo se siete stati attenti. Quindi, sulla sinistra, trovate gli avverbi di frequenza messi in disordine. L'esercizio vi chiede di mettere gli avverbi di frequenza dal più frequente che è always, sempre, almeno frequente. Anche qui mettete pausa, scrivete l'ordine preciso, esatto degli avverbi di frequenza e poi correggetelo insieme a me. Always, sempre, sempre, di solito, frequentemente, frequentemente, often, spesso, sometimes, qualche volta, occasionally, occasionalmente, rarely, raramente, hardly, ever, quasi, mai, e infine, never, mai. Bene, prima di passare alla lettura e alla comprensione, svolgiamo un ultimo esercizio che ci permette di esercitarci su tutti gli argomenti trattati. In particolare, guardando il calendario settimanale di Lori, dovete inserire gli avverbi di frequenza corretti nelle frasi. gli avverbi li vediamo in rosso sopra l'esercizio. E in base al numero di spunte che vediamo in corrispondenza all'attività e ai giorni della settimana, deduciamo la frequenza con la quale compie l'azione. Quindi, cominciamo dalla prima frase. Lori rarely listens to music. Quindi, Lori raramente ascolta la musica. Bene, dopo aver fatto questo esempio, stoppate il video, fate l'esercizio e poi lo correggiamo insieme. Lori sometimes plays the guitar. Lori qualche volta suona la chitarra. Lori rarely rarely goes shopping perché l'avverbio di frequenza rarely lo possiamo usare due volte. Quindi, Lori rarely goes shopping. Lori raramente va a fare compere. l'esercizio l'esercizio numero quattro Lori never plays tennis. Quindi, Lori non gioca mai a tennis. Successivamente, Lori always cooks. Quindi, Lori cucina sempre. Lori usually reads a book. di solito leggi un libro e infine goes dancing. Con quale frequenza va a ballare Lori? Occasionally. Lori occasionally goes dancing. Quindi, Lori occasionalmente va a ballare. Com'è andato questo esercizio? Spero bene. Andiamo avanti. Bene, adesso siamo pronti per passare all'ultima parte di questa lezione. La lettura e la comprensione di uno. My typical week. My name is Lori and I have a very busy week. I always wake up early and together with my husband I prepare breakfast for the entire family. Afterwards, my children catch the bus for school and we go out for work. I have guitar lessons on Mondays, Tuesdays, Wednesdays and Fridays. I occasionally go dancing with my husband. It's the only hobby we have in common. My husband and children play tennis during the week, but I never go with them because I'm too, I'm not good at sports. Although I'm really into music, I rarely have time to listen to it at home. When the day is almost over, I usually read a book before I go to bed. And sometimes I fall asleep while reading it because I'm very tired. Finally, Saturday is one of the best days of the week. I usually spend time with my friends and go shopping with them. bene, non traduciamo il testo perché nel brano trovate tutti gli argomenti che abbiamo affrontato durante questa lezione. Dal vocabulary con i giorni della settimana e le attività del tempo libero all'argomento di grammatica present simple e agli avverbi di frequenza. Quindi avete tutti gli elementi per comprendere il brano e rispondere alle domande risposta chiusa che sto per mostrarvi. Forza! Ecco le domande risposta chiusa. Quindi leggiamo insieme la domanda e scegliamo tra A, B, C o G la risposta giusta. Mi raccomando come sempre vi consiglio sempre di mettere in pausa il video leggere attentamente le domande dare le vostre risposte e poi correggerle insieme a me. Number one Chi prepara sempre la colazione per la famiglia? A, Lori B, Lori and her husband C, Lori's husband D, Lori's children Quindi A, Lori B, Lori è suo marito C, 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 il marito di Lori, Lori's husband, qui c'è il genitivo sassone, di Lori's children, i bambini di Lori. Qual è la risposta esatta? B, Lori and her husband, Lori è suo marito, vediamolo nel testo. Quindi io mi alzo sempre presto e insieme a mio marito preparo la colazione per tutta la famiglia. Number two Con quale frequenza Lori ha lezioni di chitarra? A, she never has guitar lessons. B, she rarely has guitar lessons. C, she has lessons four times a week. D, she has guitar lessons only on Mondays. non ha mai lezioni di chitarra. B, ha lezioni di chitarra raramente. C, ha lezioni di chitarra quattro volte a settimana. E, D, ha lezioni di chitarra soltanto on di il lunedì. Qual è la risposta esatta? Sì, she has lessons four times a week. Vediamo I have guitar lessons on Mondays, giorni della settimana. Mondays i lunedì, Tuesdays i martedì, Wednesdays i mercoledì e infine Fridays i venerdì. Quindi quattro volte a settimana, four times a week. Number three. How often does Laurie play tennis? Con quale frequenza gioca tennis Laurie? Quindi A never, B always, C usually, D sometimes. Quindi never, mai, B always, sempre, C usually, di solito, D sometimes, qualche volta. Qual è la risposta esatta? Cosa avete messo? A very good. Se avete messo E, A è la risposta esatta. My husband and children play tennis during the week, but I never go with them because I'm not good at sports. Quindi mio marito e i miei figli giocano a tennis durante la settimana, ma io non ci vado mai perché non sono brava a fare sport. E infine number four. In quale giorno Lori va a fare compere con i suoi amici? A on Mondays B on Sundays C on Fridays D on Saturdays Quindi i lunedì, le domeniche, i venerdì o i sabbati. Quando? D on Saturdays D D D D on Saturdays is one of the best days of the week. I usually spend time with my friends and go shopping with them. Quindi finalmente infine Il sabato è uno dei giorni preferiti della settimana. Di solito trascorro del tempo con i miei amici e vado a fare compere con loro. Bene abbiamo terminato la nostra seconda lezione del corso base. Ci vediamo per la terza lezione. See you soon e keep studying. Ok? Continuate a studiare. Bye bye.